Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti nel mio canale, io sono GiuliaMGCreation83 e quest'oggi vi voglio presentare un'altra nuova creativa. Quest'oggi vi voglio presentare Elisabetta Parisi, una creativa che ha fatto della sua passione un lavoro e sicuramente ne avrete sentito parlare di lei, lei è conosciuta come Le Creazioni di Eli e crea il suo materiale creativo in particolare e il feltro e probabilmente l'avrete anche vista, avrete visto i suoi lavori sulla rivista Cucito Creativo vi faccio vedere qui a fianco e quest'oggi ci racconta la sua esperienza, quindi da dove ha cominciato e dove è arrivata e ci racconterà anche alcuni dettagli su come poter partecipare in una rivista di varie tematiche creative, insomma. Quindi lascio la parola a Elisabetta Parisi e ci vediamo a fine video. Ciao Elisabetta! Ciao Giulia! Ciao, che piacere essere qui con te. 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 Allora, probabilmente molte ti conosceranno perché comunque il tuo nome, almeno io, l'ho visto molto, eccheggiare nei social. Diciamo che io avevo piacere anche di scoprire tante cose di te e spero che chi ti guarda e chi mi segue abbia piacere altrettanto di conoscere tante altre cose su di te e proprio dalla tua partenza fino a ciò che sei ora. e ti lascio a te adesso la voce e raccontaci innanzitutto dove vivi, come ti chiami, quali sono i tuoi punti social dove poterti trovare. Ok. Allora, io sono Elisabetta Parisi, sono conosciuta sul web come Creazionieli, il nome che gira più del mio nome, il nome della mia pagina. Io sono una creativa, un'artigiana più che altro, che progetto, disegno e realizzo progetti fatti a mano. Soprattutto in questo periodo a fiocchi nascita mi rivolgo alle mamme e ai bambini nella prima fascia d'età e questa è stata una scelta perché prima facevo un po' di tutto, cioè facevo borse, copriagende, facevo di tutto. Poi studiando, perché bisogna documentarsi, ho capito che bisogna targettizzare un certo tipo di clientela e quindi ora mi rivolgo alle mamme che hanno bambini nella prima fascia d'età. Provengo da Ginosa, è un paese in provincia di Taranto in Puglia ed è considerata la sorellina di Matera. Ginosa è un paese bellissimo, se volete venire vi aspettiamo a braccia aperte. Puglia ha praticamente la gravina, che è uno scenario naturale fantastico, è tipo i sassi di Matera, infatti è considerata la sorella minore di Matera. Abbiamo il mare a 20 chilometri e quindi noi siamo in collina, quindi aria fresca qui e mare a 20 chilometri. Insomma, quindi è un paese che sta sviluppando il turismo molto velocemente, soprattutto ora che c'è Matera, che è capitale della cultura 2019, ci siamo legati a questo evento e quindi sta prendendo piede anche il turismo a Ginosa. Quindi la mia tecnica è il cucito creativo, però mi lascio spesso contaminare anche da carta in legno più che altro per completare le creazioni. Quindi la mia tecnica non è il legno, non è la carta, però utilizzo questi altri due materiali per la confezione, per abbellire, per dare supporto. Hai parlato di cucito creativo. Sbaglio anche il titolo di una rivista alla quale hai partecipato. Sì, sì, io collaboro ormai da tanti anni, forse sono sei anni, che collaboro con Cucito Creativo Facile, di Edizioni Lumina, che è una delle più grandi testate creative che ci sono in Italia. Da tre anni è uscito anche Feltro Creativo e collaboro anche con loro, stesso editor. Per loro faccio, cartamo, degli inediti e progetti con spiegazioni che mi stanno dando tante soddisfazioni. Probabilmente in questo momento sono una delle autrici più anziane, cioè quella che lavora da più tempo con loro. Sì, è una spinta veramente motivazionale grande, perché è divertente. Poi con loro riesco anche, ho detto, io mi rivolgo più che altro ai bambini nella prima fascia d'età. Invece lavorando con la rivista riesco a fare molto di più. Per loro faccio cartamodelli di borse, faccio cartamodelli di accessori per la casa, eccetera. Quindi diciamo che apro la mia creatività proprio nell'ambito della rivista. Ma come hai iniziato il rapporto con loro? Sei stata contattata? Allora, no, io ho iniziato quando la rivista era nata da poco, quindi forse erano usciti una ventina di numeri, forse anche meno. Cercavano delle creative, avevano messo un post su Facebook e io ho mandato alcune delle foto di lavori che avevo fatto e immediatamente mi hanno ingaggiata. Era all'inizio, forse quindi era anche più facile, sono stata fortunata, però è una collaborazione che ormai va avanti da anni e che, come ho già detto, mi dà tante soddisfazioni. Arrivano sempre nuove creative, quindi credo che le porte siano sempre aperte. Quindi se qualcuno vuole proporsi può scrivere un'email e vediamo se diventano mie colleghe. Poi come funziona? Hai anche un ritorno economico o solo di visualizzazioni? Allora, ci sono alcune riviste che danno la possibilità anche di guadagno, cioè che ti pagano per progetto, ma in Italia credo che queste riviste non esistano, quindi bisogna andare all'estero, però non sono ferrata in materia. Loro ti forniscono un certo numero di riviste e alla fine puoi farne quello che vuoi e in ogni caso ti danno tanto credito, tanta pubblicità. Io sono cresciuta tantissimo grazie a loro. Diciamo che ho scalato un po' la vetta rispetto ad altre creative che sono nate nel mio stesso periodo perché collaborando con loro ho acquistato un po' più di... non mi viene il termine... Di autorevolezza, un po' più di autorevolezza nel settore. E questo mi ha permesso di scalare un po' rispetto a prima, di diventare una persona un po' più conosciuta, un po' più di cui fidarsi, ecco. Perché poi alla fine se qualcuno ti affida un lavoro devi anche fidarsi di te. E questo mi ha dato questa possibilità. Poi ho detto che loro ci danno comunque un tot numero di riviste e noi ne facciamo quello che vogliamo e quindi inevitabilmente arriva anche il guadagno. E se hai partecipato a delle fiere anche per questa rivista? Sì, sì, sì. Allora, con Cucito Creativo ho partecipato ad alcune fiere creative, molto grosse. Sono andata benissimo con loro, però partecipare alle fiere è veramente impegnativo. Bisognerebbe fare quello per lavoro, perché allestire il banco di una fiera significa non allestire il banco di un mercatino, ma preparare le creazioni e preparare tutti i kit che poi devi vendere, che poi devi proporre. Bisogna fare corsi in fiera. Diventa molto impegnativo. Inoltre le fiere durano almeno quattro giorni consecutivi, quindi bisogna lasciare tutto e andare via per sei giorni, perché bisogna considerare il giorno dell'allestimento e il giorno dello smantellamento. Per me era difficile, perché io comunque ho tre figli, ho il lavoro, mi commissionano, grazie a Dio insomma il mio lavoro va bene, quindi ho commissioni in continuazione, quindi ho dovuto fare una scelta e ho scelto di continuare a lavorare per quanto mio, anche perché così riesco a gestirmi meglio i figli, la casa e tutto il resto. Insomma, la scelta di crearmi un lavoro era proprio questo, di essere libera di gestirmi e questo mi ha consentito di farlo. e quindi ho fatto la scelta di abbandonare le fiere. Ho abbandonato anche i mercatini che facevo inizialmente, perché inizialmente quando ho scoperto questa mia vena creativa, o meglio, l'ho messa in campo, ho iniziato a fare mercatini, però anche lì, per allestire un banco, le amiche creative lo sanno benissimo, quelle che hanno già fatto qualche mercatino, si ha necessità di tantissima roba, di realizzare tanta roba, è tutto a quel punto interrogativo, perché tu magari puoi aver fatto una bambolina rossa e invece magari il tuo cliente la vuole arancione, allora ti sei preso la commissione della bambolina arancione, però della bambolina rossa cosa ne fai? Allora, molto spesso quella dei mercatini è un lavoro a perdere, perché poi ti fai tanto magazzino, tanto lavoro non ripagato, e se anche vendi qualcosa non è mai abbastanza... non va mai a coprire le spese di tutto il banco e di tutto il lavoro che hai fatto, io la vedo così, ho fatto un po' la mia valutazione. Condivido appieno, anch'io ho partecipato a pochissimi mercatini, ma poi ho smesso proprio perché anche, diciamo un po', non trovavo una soddisfazione personale nella vendita, e rischiavo di perdere anche gli stimoli nel continuare, quindi ho preferito togliermi, perché sicuramente la vendita non è stata fatta anche a causa mia, probabilmente perché i prodotti non erano convincenti, belli, e di fatti, come dicevi tu, è importante anche lo studio, e anche perdersi del tempo per creare tanto, per perfezionarsi, e quindi poi migliorare anche il proprio prodotto. E non ci si può proporre, buttarsi proponendosi alla vendita dal primo momento, certo. Esatto, ed è stato il mio sbaglio, di fatti io adesso lavoro tanto dietro le quinte e preferisco fare video tutorial e imparare, non dico mai insegnare, ma imparare insieme a chi mi segue la tecnica dell'uncinetto, proprio perché non sono ancora pronta per dire, ok, posso fare della mia passione al lavoro, perché io stessa mi rendo conto che ho tante cose ancora da imparare. Però ho deciso, perché di fatto, come dicevi tu, all'inizio bisogna sempre valutare cosa si vuole veramente prima di percorrere una strada, e soprattutto rendersi anche conto di quello che si sa veramente fare e quanto puoi dare agli altri. Ricordo te, ieri ho fatto una diretta nel tuo gruppo Facebook, e se vuoi vi pure il nome del tuo gruppo, tu ti poi metti anche il link sotto in descrizione. Allora, il mio gruppo si chiama La Mela Verde. E tu di fatto ieri hai detto una cosa che effettivamente è vera, che bisogna anche, come si dice, rendersi conto delle proprie abilità e poi mettersi anche in gioco e studiando, facendo, però mai proporsi subito se non c'è neanche la certezza che il prodotto che tu dai sia veramente di qualità. Ma non solo, proponendosi subito, in genere, almeno io parlo nel mio caso, però ho visto che funziona un po' così per tutti, proponendosi subito si rischia di proporre cose già viste e fatte da altri, quindi va a cadere il tasto dell'originalità in quel caso. Perché è vero che è stato ormai inventato tutto, lo sappiamo, non è che dobbiamo ancora sforzarci di inventare, però quel pizzico di originalità nelle nostre creazioni dovremmo metterlo, perché molto spesso vedo riprodurre creazioni già viste, già fatte, già proposte da persone che si reputano creative. Allora, se sei creativa, io ti sfido a mettere del tuo all'interno del prodotto che proponi. Del tuo può essere anche il cambiare leggermente la forma, una scelta di colori, di abbinamenti, un uso diverso dell'oggetto che stai proponendo, partire da un disegno diverso da quello visto dagli altri, insomma, c'è il modo di essere poco poco originali, però se si continua a proporre le stesse cose viste già da altri, quando ci si lancia, verrai sempre vista come la persona che ha copiato, che è venuta dopo e quindi non ti puoi permettere di chiedere anche qualcosa in più, di fare, insomma, del tuo lavoro, del tuo opium lavoro, perché se vuoi che diventi questo, devi dare qualcosa in più alle persone che ti seguono e che poi diventano tue clienti, altrimenti le deludi. Devi dare personalità le tue creazioni di creazione identificata anche perché se tu metti qualcosa di tuo particolare, vieni anche ricordata per quel particolare, quindi ti collegano anche a te, se tu fai quello degli altri, uno di loro... È una cosa comunque difficilissima, non è semplice, è una cosa difficile e non si riesce sempre a farlo, cioè io sono la prima che non riesco a farlo così su due piedi, però bisogna metterci impegno, ecco, questo è il suggerimento che do a tutti e che io cerco di applicare ogni giorno pur non riuscendoci sempre. Ebbè, allora tu hai creato questo gruppo ma sei partita con una pagina a Facebook dove mettevi le tue creazioni, si chiama? Sì, allora la mia pagina si chiama Creazioni Eli di Elisabetta Parisi, il nome è così lungo perché mi sono accorta dopo aver scelto il nome che esistevano già altre creazioni Eli, allora ho dovuto specificare anche il mio nome che poi mi identifica anche, quindi va benissimo così. Esatto, esatto. E questa è una cosa che dico anche, suggerisco, quando vi scegliete il nome verificate che non esista già. Stavo per dirlo anch'io questa cosa perché è vero. Poi è anche bello se riesci a trovare un nome unico perché quando fanno le ricerche compari solo tu. Sì, compari tu, sì. È stato il mio primo errore quello. Eh però, dagli errori ci impara, eh? Sì, sì, infatti ho detto tengo a dirlo perché così magari qualcun altro non ricade nel mio stesso errore. Sì, infatti ho fatto una prova con il mio nome che oltretutto il mio nome è MG Creation 83 è complicato ricordare. Infatti, è difficile che ne esista un altro. Però, ho provato un altro testo e poi è un nome al quale sono molto legata perché quando ho iniziato è rimasto quello e ero un po' in difficoltà nella scelta. Però poi ho detto ok, il nome è difficile però se io come persona riesco a dare qualcosa o avere anche un tocco diverso magari anche se non ricordano il mio nome possono ricordare dei dettagli. Sì, sì, no, ma io credo che io credo che se vai valore la gente ci voglia ricordare. E infatti è nata la parrucca rosa proprio per quel momento lì. Adesso almeno quelle persone che sentono il nome dicono ah sì, la ragazza con la parrucca rosa. Era così affezionata a quel nome che purché fosse difficile identificarlo ma ho visto che è unico se vai alla ricerca su YouTube metti è un po' che non c'è quello io quindi da quel lato lì ho detto mi dispiacerebbe cambiare perché almeno so che c'è solo il mio di nome è difficile trovare no altro che il mio nome. Bisogna un po' ecco la creatività anche in queste cose. È vero, è vero. print però torniamo a parlare di te. Allora tu adesso cosa fai? È fatto della tua passione di un lavoro hai raccontato adesso. Sì, sì, sì. Allora intanto sono riuscita nel corso degli anni non è stato facile ed è stato comunque un lungo percorso quindi non succede da un giorno all'altro non ti puoi aspettare dopo sei mesi che già sia così. io lo faccio ormai dal 2012 e sono sette anni ho ormai trasformato il mio hobby in lavoro sono regolare quindi mi pago mi pago le tasse faccio tutto quello che è necessario fare quindi hai l'attività vera e propria sì, sì stavo dicendo è diventato ormai tutto regolare e per me è diventata un'attività vera e propria mi sono accorta tempo fa che un sacco delle mie colleghe mi chiedevano come io avessi fatto io ho cominciato a dispensare consigli però non consigli strutturati dicevo una cosa a una persona una cosa che mi andava bene in quel momento un'altra cosa a un'altra persona a quel punto mi sono resa conto che avrei voluto fare qualcosa di più essere di maggiore aiuto per loro e ho cominciato a studiare per per imparare come fare dei corsi digitali io ero una ignorante digitale perché io ho purtroppo 46 anni quindi sono nata nell'epoca in cui internet non non se ne parlava non c'era ancora quindi la mia formazione è poco digitale e ho dovuto studiare studiare tanto è stato faticoso per me però finalmente insomma sono entrata nel mood digitale e quindi ora sto strutturando dei veri e propri percorsi che possono essere sia corsi che consulenze per aiutare le creative che trovano difficoltà nel promuoversi nell'uscire dalla propria zona di confort cioè che hanno proprio paura nel proporre le proprie creazioni perché temono che non siano che non saranno apprezzate oppure non sanno come fare il mio intento è quello di aiutarle e dimostrare loro la giusta strada da percorrere bellissima cosa e credo sicuramente tornerà molto utile a chi ha veramente voglia di fare questo passo ovviamente bisogna anche sempre come dici tu non solo ascoltare i consigli ma anche metterli in pratica e anche tante ore nello studio perché solo così puoi avere risultati non pensare un consiglio presto non ti arriva nulla dal cielo tutto quello che si ottiene è comunque tutto guadagnato dal grande lavoro che c'è dietro io un suggerimento che posso dare ora io per esempio consiglio sempre alle mie colleghe creative di utilizzare i social per promuovere tanti dicono sui social non si vende sui social sono dei social quindi è soltanto intrattenimento bisogna soltanto starci per passare del tempo io questa cosa la smentisco alla grande perché io sono cresciuta grazie proprio ai social alla presenza sui social tutti i giorni in maniera costante perseverante anche la domenica da sette anni posto posto le mie creazioni posto i miei posti i lavori in corso il mio materiale ogni giorno faccio dei post ora un po' meno perché ho intrapreso anche il percorso delle consulenze però fino a molto tempo fa lo facevo e bisogna considerare quella della promozione sui social un lavoro cioè il lavoro non è soltanto creare con le proprie mani ma è anche proporsi ed è anche promuoversi quindi quando tante colleghe mi vengono a dire ma io non ho tempo di fotografare perché bisogna fare poi delle belle foto tu lo sai benissimo non ho tempo di fotografare non ho tempo di postare non ho tempo di pensare a come raccontare quello che faccio eccetera io a loro rispondo questo fa parte del tuo lavoro cioè anche quello è il lavoro quindi bisogna fare in modo di non di trovare del tempo di strutturare la giornata in maniera tale da poter creare con le proprie mani gli oggetti che si realizzano e fare in modo che anche gli altri lo sappiano come pretendi che la gente venga da te a chiederti qualcosa se non gli hai parlato di quello che fai bisogna un po' entrare nella testa dei propri seguaci dei propri follower affinché diventino clienti quindi bisogna veramente postare tutti i giorni impegnarsi nel fare sempre le cose al meglio e soltanto così magari un giorno si può raggiungere insomma l'obiettivo desiderato io io sono proprio fissata su questa cosa infatti chi mi sente chi mi ha sentito parlare più volte di questo ormai ne avrà le tasche piene però io ci tengo a ripeterlo perché è una cosa che porta veramente dei benefici e questo vale per qualsiasi attività la costanza è importante avere costanza e avere anche un piano di azione di atto l'organizzare le idee organizzare proprio un calendario dove ti vai a pianificare tutto quello che devi fare e in particolare vedo anch'io nel caso mio dove cerco di far crescere il mio canale youtube cerco anche di essere programmare anche delle date precise per fare certe cose quindi bisogna sempre pianificare fare un piano e sarebbe interessante anche affrontare questo argomento dove dare la possibilità proprio come si dice di creare un materiale proprio per fare questi planner come si suol dire perché veramente tornauti io ad esempio ne sto facendo diversi non ho ancora trovato quello però che mi dà a me il senso di passione e che mi riesce a dare le idee più chiare possibili beh poi ognuno ha la propria struttura mentale che deve essere stimolata in un certo modo quindi poi ognuno ha la sua però le linee guida sono comunque quelle cioè devi sapere esattamente quello di cui hai bisogno ed andare bisogna andare a distribuire nell'arco della giornata poi della settimana poi del mese cioè bisogna pianificare in qualche modo altrimenti si va allo sbaraglio e non si ottengono i risultati hai ragione difatti io come mentora ad esempio Lisa Lisa Davide lei ogni tanto la chiamo quando sono proprio in crisi che non riesco più a dare un ordine alle parole per favore agitemi a capire come posso fare queste cose qua perché vado in pallone perché il difetto diciamo delle creative è anche quello di avere sempre la mente che lavora in continuazione bisogna cercare di domare questo aspetto difficilissimo io non so una mia amica che dice tu sei la creativa meno meno creativa cioè nel senso perché in genere si dice che i creativi sono molto disordinati sono molto sconfusionati io invece sono molto razionale quindi sono così di carattere mio però io molto spesso esco dagli schemi è vero che il mio target sono le mamme di bimbi nella prima età dell'infanzia però se mi va un giorno di fare una borsa e di proporla se mi va un giorno di fare un non lo so un portaocchiali o qualcosina qualcosa per la festa dei nonni non lo so la faccio diciamo se vai sulla mia pagina vedi tutti i fiocchi nascita tutto così però se un giorno mi viene di fare una cosa e la faccio io comunque la propongo perché mi seguono comunque altre persone e tra quelli che mi seguono anche tra le mamme potrebbe essere qualcuno interessato anche a quest'altro tipo di oggetto e mi è già capitato in effetti che magari ho fatto delle borse perché mi era venuto il pallino che non riuscivo a fermarmi l'ho voluto fare e ho trovato clienti anche in quel caso però se vuoi avere una vendita continua devi comunque essere devi aver targettizzato poi la creatività la puoi lasciare libera in qualsiasi momento però se vuoi ottenere subito dei risultati consiglio di adottare il metodo della targettizzazione e poi la creatività lasciamola comunque libera quando ci viene il pallino facciamo quello che dobbiamo fare guarda io ne approfitterei di questa intervista per chiederti anche di fare una proposta che magari potrebbe interessare a me principalmente perché visto che ti sto ascoltando e allo stesso tempo vorrei farti tante altre domande sul tema però non voglio dedicare questo vlog a questo tema vorrei proprio parlare di te e quindi far vedere anche le tue creazioni e quant'altro però mi piacerebbe poter creare un altro video con te dove possiamo affrontare questi argomenti come dicevi prima la targettizzazione magari anche come ordinare le idee come ci stava parlando adesso magari dare proprio degli input costantivi e utili visto che hai affrontato questo argomento mi piacerebbe veramente creare uno spazio dove possiamo parlare di questo e quindi magari creare proprio delle giornate insieme dove possiamo dedicarti a questo tema se sei disponibile e se si fa più va bene sì sì sono felicissima perché ormai l'ho presa come missione questa diciamo una cosa che ho scoperto e che mi piace condividere lo faccio anche nel mio gruppo e lo faccio volentieri sono felicissima insomma di collaborare con te in questo senso certo grazie anzi per l'opportunità anzi dico io perché sono veramente contenta perché come ti dicevo sto ancora studiando per quanto io sia qui ma guarda anch'io anch'io continuo a studiare sempre c'è sempre da imparare e quindi mi piacerebbe farlo con persone che hanno già una basta esperienza alle spalle che stanno anche toccando con mano i risultati e quindi riesco anche ad apprendere anch'io le tante cose che hai imparato anche tu insomma ti ringrazio veramente tanto di aver accettato e ora vorrei chiederti ho visto che hai in mano qualcosa stai creando qualcosa in questo momento? allora sì sono sommersa dai fiocchi nascita questa settimana allora in genere io mi organizzo all'inizio della settimana per quello che devo fare durante la settimana questa settimana mi sono organizzata in maniera tale che la prima metà della settimana mi sono dedicata ai progetti di Natale da inviare alla rivista in genere lo faccio ad agosto quest'anno ho subito delle variazioni sul calendario editoriale come dicevamo prima quindi lo sto facendo ora a settembre e ora che i progetti di Natale sono quasi pronti mi sono riprese in mano le mie commissioni quindi sono sommersa dai fiocchi nascita ora vedete qui c'è il panno grigio il rosa per fare le orecchie dell'elefantino questo qui questi sono dei pezzi di carta modello sto facendo vari fiocchi nascita su uno di questi ci andrà l'elefantino bello ma l'elefantino Dumbo sì diciamo le orecchie non sono così grosse come quelle di Dumbo altrimenti sarebbe stato sproporzionato però ci siamo ispirati a Dumbo sia io che la mamma perché in genere insomma sono anche le mamme che hanno quasi più fantasia di noi e ci chiedono cose che magari all'inizio ci sembrano complicate poi alla fine una volta realizzate la soddisfazione è enorme perché sono sempre delle sfide quindi scusa l'intrusione ma come ogni intervista lui è arrivato è arrivato l'ospite è arrivato l'ospite perché il momento è che se ne coccole questo è proprio mi sembra anche giusto di solito arrivo alle 10 adesso sono le 10 e 10 non vi è vero il ritardo nel tuo arrivare allora innanzitutto se devo salutare per lei Elisabetta di là devi guardare niente è preso dei grattini sono grattini da una mattina alla sera ebbè mi sembra anche giusto allora Elisabetta io volevo chiederti ancora un'ultima cosa volevo sapere tutti i tuoi link Instagram Facebook sì allora su Facebook mi trovate con come ho detto prima Creazioni Eli di Elisabetta Parisi che è la pagina delle mie creazioni se volete sbirciare lì su poi c'è anche l'altra pagina si chiama Fatto a mano in un click che è la pagina dedicata alle mie colleghe creative in cui almeno una volta a settimana pubblico un mantra i mantra sono degli spunti di pensiero che dovrebbero servire a farti riflettere su un determinato tema io li ho chiamati mantra della creativa online sono quasi arrivata a 100 e credo che prima o poi pubblicherò un libro me l'ha detto una mia amica che ogni giorno si lascia esfilare i miei mantra dai miei mantra e mi ha detto guarda se facessi un libro argomentato dei mantra io sarei la prima a comprarlo a prescindere dalla vendita a me piacerebbe farlo quindi tutto è quello poi su facebook c'è anche il mio gruppo La Mela Verde che è il gruppo anche quello dedicato è legato alla pagina fatto a mano in un click ed è sempre dedicato alle creative e poi invece sull'account instagram elisabetta parisi punto creazioni e lì pubblico sia le creazioni che i mantra diciamo che è un account misto messo insieme i due argomenti più o meno riesco a portarlo avanti così poi vedremo se in futuro insomma cambierò e aprirò due account per ora è un unico account poi c'è il mio sito che si chiama elisabetta parisi punto tutto attaccato punto net in cui c'è anche il blog ci sono alcuni articoli del blog e in cui chi vuole soprattutto le creative possono trovare una guida i primi cinque passi per trasformare il proprio hobby in lavoro quindi è una guida gratuita e la si trova entrando all'interno del mio sito ecco infatti la sto guardando Aurora che bella fotografia complimenti grazie merito della fotografa bravissima inizia qui blog articoli recenti fatto a male in un click chi sono contattami blog quindi sì c'è tanto tanto da vedere e quindi metterò tutti i link in descrizione così per chi grazie troverà in automatico anche i link e complimenti davvero mercatini sì mercatini no l'arte nelle mani ed ecco qui il tuo libro bellissimo lo spulcerò tanto questo sito allora vado a rivedere tutti i articoli per rileggere un po' e mi piacerebbe davvero tanto questa collaborazione che faremo insieme dove io sono felicissima se lo facciamo la vedo come un'opportunità anche per me perché io cerco di diffondere un po' questa creatività il fatto cerco di rivolgare un po' la creatività il fatto che tutte le le ragazze le signore come noi che hanno l'arte nelle mani e che se la tengono per sé potrebbero proporla e potrebbero anche trarne trarne guadagno quindi mi piace proprio l'idea e credo che sia la mia missione questa bellissima idea no anch'io sono della tua idea perché collaborare condividere aiuta tantissimo farci con i fatti le mie blog interviste sono nata anche per questo per dare l'opportunità di raccontarti oltre il post oltre la foto perché per me è importante anche vedere in viso la persona ma anche sentire la voce come comunica perché fa tutta un'altra differenza è veramente cambia completamente la conosci un po' meglio ecco quindi un po' più confidenza si esatto crea quella confidenza in più che ti permette anche di attirare di più persone oltre la fotografia ovviamente perché devi comunque dimostrare le tue abilità oltre a presentarti quindi ci vuole per un po' che l'altro e quindi io sono contenta tramite questa insulista e magari riuscite a ottenere anche di più di quanto già avete perché questa è la mia dimissione farvi conoscere e quindi anche conoscere l'opportunità anche di conoscere per sapere i vostri segreti i vostri consigli quindi no sono davvero molto felice di averti avuta qui ma prima di lasciarti e farci continuare perché vedo che sei immerso nel tuo lavoro volevo chiederti di condividere con noi la tua frase che ti piace di più il tuo motto della giornata insomma allora io tutte le mattine quando mi sveglio ho bisogno di una carica e penso a una frase che ho sentito tempo fa in un video e mi è rimasta impressa e credo che me la porterò dietro per tutta la vita che è il piccolo e il nuovo grande mi piace perché è una frase che dà speranza a tutti cioè nel senso che ti fa capire che se ti impegni per raggiungere i tuoi obiettivi anche se ora sei piccolo così puoi diventare grande puoi crescere tutti quanti sono partiti da zero i più famosi cantanti i calciatori gli scrittori sono tutti partiti da zero si sono impegnati hanno raggiunto i certi livelli io non dico di dover raggiungere il livello che ne so di Laura Pausini diciamo se confrontiamo però tutti quanti abbiamo la possibilità di crescere e di arrivare ai nostri obiettivi a raggiungere i nostri obiettivi e l'importante avere anche degli obiettivi che così sono stimolata a crescere ed andare avanti grazie mille Elisabetta di questa intervista grazie a te è stato bellissimo organizzeremo un prossimo video allora ok ci sarò e buona creatività allora grazie anche a te e grazie anche a tutti i seguaci del tuo canale alle seguaci grazie al tuo canale grazie tante ciao Elisabetta ciao ringrazio di cuore Elisabetta Parisi per aver accettato questa intervista e di essere entrata nel mio salotto virtuale sono così felice che abbia anche accettato la mia proposta di creare insieme dei blog tag sul tema di fare della propria passione un'attività quindi consigli utili e anche strategie per poter crescere e poter far sì che il nostro sogno diventi realtà ossia quello di di fare della nostra passione un lavoro quindi se è il tema che interessa anche a voi restate curiosi non perdetevi i miei prossimi video ciao ciao